Con Luciano Zauri facciamo un po' il punto di questi primi mesi sulla panchina della Pescara, quanto sei contento Luciano? Tanto, tantissimo, sono contento, ho iniziato questa grande avventura con un entusiasmo incredibile, non è mai calato, mi sto godendo questo momento sapendo tutto quello che mi sarebbe successo, insomma, sedessi su una panchina così ambita, racchiude tante insidie ma tante soddisfazioni e tante gioie per cui sono contento e me la gioco alla grande. Ci sono stati dei momenti tanto belli e altri meno belli, mi viene da pensare il 4-0 al Chico Benevento che sta dominando il campionato mi viene da pensare a qualche rimonta di troppo subita, c'è qualcosa che ti ha colpito in positivo e qualcosa in negativo, qualcosa che non rifaresti? No, rifarei tutto, rifarei tutto perché tutto quello che abbiamo fatto è figlio di entusiasmo, di sudore, di sacrificio per cui si cerca sempre di fare il meglio, ovviamente non sempre ci si riesce visti anche i risultati però credo che quando alla base c'è buona fede, c'è voglia di lavorare, credo che tutto quello che arriva sia giusto come ho sempre detto noi abbiamo i punti che meritiamo, quindi c'è grande voglia di fare, quella sì. 4-0 con il Benevento, come lo ricordi? Lo ricordo alla grande, ma ricordo anche il 3-0, non so perché nella mente delle persone rimane sempre l'aspetto negativo delle cose ma io sono ottimista di natura, me la godo alla grande, quindi sono contento di questa grandissima avventura e ci siamo, siamo lì per giocarci le nostre carte. Gli infortuni di Tuminello, di Balzano e di Palmiero quanto ti hanno penalizzato? Hanno fatto sì che ci fossero meno scelte, io ho sempre detto che sono stati presi questi ragazzi probabilmente anche per giocare sulla carta ai tolari, poi è sempre il campo che arbitra e decide per far sì che succeda questa cosa. Però è chiaro che quando ti vengono a mancare delle bedine così importanti devi rivedere un po' tante cose ma sono contento di quelli che poi sono scesi in campo e hanno dato comunque il massimo perché comunque quando si va in campo nessuno vuole fare brutta figura e non mi piace piangermi addosso, insomma le cose che ho sempre dichiarato le conosciamo, le conoscete per cui c'è soddisfazione per quello che i ragazzi hanno fatto, c'è dispiacere per gli infortuni perché oltre a mancare in campo questi ragazzi staranno lontano per mesi dal campo però piano piano la cerchia l'abbiamo trovata, le difficoltà comunque ci saranno perché comunque non affrontiamo gente che non sa giocare quindi grande difficoltà ma grande voglia di fare. Siamo quasi in chiusura, Luciano mi dici una cosa che ti ha lasciato in particolare questa tua prima esperienza sulla panchina del Pescara? Esattamente le due cose che sono più importanti, le grandissime gioie quando appunto si raggiungono grandi vittorie come è successo a noi e la delusione che c'è dopo le sconfitte e tante volte secondo me è anche ingiustificata perché si fa presto qui a fare e disfare credo che ci voglia comunque equilibrio alla base di tutto. Le parole di Massimo Oddo? Le parole di Massimo Oddo non sono una novità per me fanno sicuramente piacere perché sono quelle più recenti c'è un rapporto alla base tra me e lui che va anche al di là del semplice rettangolo di gioco. L'ultima proprio guardiamo al Frosinone che è il prossimo avversario del Pescara è una squadra che sta vivendo un momento particolarmente positivo lo incontrate forse nel loro miglior momento? Beh, il Frosinone è stato costruito per fare quello che sta facendo ha avuto dei problemi all'inizio ma chiaramente quando hai tanto materiale prima o poi trovi la soluzione secondo me è così come Nesta ha trovato e in questo momento i risultati sono dalla parte del Frosinone grande solidità, una squadra che prende pochi gol e spesso porta a casa la vittoria. Dove dovete essere bravi bravi? Beh in tutto, quando si affrontano quelle squadre ci vuole più o meno la partita perfetta e stiamo lavorando per farci trovare pronti. Ovviamente chiudiamo la classica partita dove Zauri riproporrà la difesa a tre. Noi possiamo fare qualsiasi cosa è sempre l'atteggiamento come diciamo da sempre abbiamo gli uomini per poter fare bene speriamo di riuscirci.